Allenamento al Benito Stirpe e prove tattiche generali in vista del match interno contro la Roma, appuntamento sabato sera alle 20.30. Tre indisponibili, i difensori Lorenzo Riaud e Stefan Simic e l'esterno Paolo Ghiglione. Rosa quindi quasi al gran completo per il tecnico Marco Baroni, pronto a scegliere l'11 migliore per conquistare punti pesanti contro la Roma e rilanciare le ambizioni giallazzurre in chiave salvezza. Le scelte di formazione sembrano già fatte ma anche stavolta potrebbero esserci sorprese dell'ultima ora. Anche nella conferenza stampa a posto Juventus infatti Baroni ha lasciato intendere di voler coinvolgere tutti nel progetto salvezza Frosinone. Tutti devono essere pronti in queste ultime 14 partite di campionato. Contro la Roma la linea difensiva dovrebbe essere comunque la stessa delle ultime uscite con Goldaniga, Salamon e Capuano davanti a Sportiello. In mezzo al campo scontati i ritorni dal primo minuto di Maiello in cabina di regia e di Beghetto sulla corsia Mancina. Zampano viaggia verso la conferma con Paganini, asso nella manica da utilizzare a gara in corso. In attacco Ciofani è favorito su Pinamonti. Frosinone Roma anticipo del sabato della 25esima giornata del campionato di Serie A sarà diretta da Gianluca Manganiello di Pinerolo. Sul fronte tifosi esaurito il settore ospiti restano a disposizione dei sostenitori giallazzurri oltre 1500 tagliandi.